Ora introduciamo, abbiamo 5 minuti per qualche domanda, se qualcuno si vuole avvicinare io prezzo il microfono e con Matteo facciamo un po' di scenetta Ci sono quei momenti come a scuola, guarda che faccia che hanno La roba terribile, io l'avrei mai fatto Pietrificati Ci sono domande? No, vero? No, non ci sono domande Non vi affollate Non ci sono domande, non ci sono domande Matteo, non ci sono domande Si dice, è una cosa che... Per prassi, no? Manco hanno chiesto se volevo fare domande, noi pubblico non contavo niente Ecco, ma l'avremmo detto, ma la colla da voi se non c'è, 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 c'è Va invitato, adesso come dice Costanzo State buoni, adesso andiamo in onda La pubblicità Allora, vi salutiamo? Bravo, ci pensi tu, ci pensi tu Giannini, l'attore a un certo punto se ne va E lui è meglio che suonare Salutiamo tutti Grazie Vi invitiamo a rispettare i segreti, mi raccomando Attenzione alle varie situazioni perché i segreti è veramente carino Ringraziamo Matteo Bracciamore, Nicola Svaporizzi, Primo Reggiani, abbiamo detto non c'è E i due autori, l'attrice Grazie I due autori, Matteo, grazie Matteo, grazie Niccolò Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti